Oggi viene presentata a livello nazionale la 91esima edizione del calendario storico, opera che raggiunge la tiratura di 1.200.000 copie, che è dedicata ai carabinieri e alle comunità. Ogni mese descrive una storia, sono 12 storie tutte vere che vanno dal 1943 a storie più recenti, l'ultima del maggio dell'anno scorso con l'alluvione in Emilia Romagna e raccontano l'impegno dei carabinieri ma soprattutto hanno un filo conduttore che è la capacità di dialogo e di ascolto svolto principalmente dai nostri reparti carabinieri, dalle stazioni in primo luogo ma anche dai reparti speciali e che ripercorrono la funzione anche di rassicurazione sociale che viene riconosciuta ad ogni reparto dell'arma. Sono storie, opera realizzata dal punto di vista grafico, dallo studio Pininfarina e storie descritte dalla penna di Massimo Gramellini. Sono storie di vita anche quotidiana che comunque raccontano il rapporto dei carabinieri in servizio della cittadinanza? Sono storie semplici, sono storie che vanno da, o meglio, storie di valori semplici ma che vanno dall'atto di eroismo come la storia dei martiri di Fiesole o la storia del 1943 o storie molto più recenti ma che comunque in esse si ritrova la semplicità, la bontà d'animo che sta dietro ogni singola azione dei carabinieri e la capacità di dialogo e di vicinanza che ci unisce alle varie comunità. C'è una storia che le arrivasse particolarmente indicativa per lei e anche per i carabinieri? Le storie sono tutte scritte con la penna di Gramellini quindi prendono parecchio. Personalmente la storia di Luglio che è dedicata al salvataggio condotto da un carabiniere di donna in Veneto che ha convinto un'altra donna molto più grande, madre di tre figli, a non commettere il suicidio. Quella è particolarmente, mi è piaciuta particolarmente, è anche la storia dei martiri di Fiesole tre carabinieri appena ventenni che decidono di sacrificare la loro propria vita consegnandosi alle truppe naziste per salvare la vita a dei cittadini. È una storia molto... poi la penna di Gramellini prende molto quindi per come è raccontata piace parecchio. Queste due storie mi sono piaciute in particolar modo. Come anni e anni, le vendite delle vendite dei calendari verranno in emergenza? Ci sono oltre al calendario altri prodotti editoriali sono planning settimanali o calendari da tavolo i cui ricavi saranno devoluti a un ospedale di Reggio Calabria o un ente assistenziale che è l'ONOMAC dell'Arma dei Carabinieri che cura l'assistenza ma soprattutto gli studi degli orfani del personale caduto dell'Arma dei Carabinieri.